Un uragano è il pomeriggio tra i pensieri miei e mi sposto verso il muro del tacere. Sono scappato per non urlare tra i vetri brinati, guardo la luce, chiedendomi chi attraversa la via. Ho paura delle immagini violente che si sciolgono sul muro della mia stanza. Tu mi chiami, non rispondo perché il chiarore mi nasconde tra le ombre del tramonto.